Nessuna idea, nessun segno di lotta, di cuore, di essere squadra. Nel turno infrasettimanale di Livorno la VL tocca uno dei punti più bassi della sua storia attraverso una partita persa sul nascere. Alla sirena il punteggio che sentenza l'ottava sconfitta in 11 partite dirà 104-76 dentro un match che già all'intervallo dipingeva un eloquente e imbarazzante 60-28. Il tutto al cospetto di una Libertas Livorno che fino a mercoledì pomeriggio aveva gli stessi punti in classifica dei pesaresi. Ci si aspettava la ripartenza dopo due partite con Udine e Rimini che, seppur negative nel punteggio, avevano lasciato intravedere un lumicino di speranza. Speranze spazzate via da una trasferta toscana in cui il pubblico pesarese presente lascia l'impianto ben prima della fine del match e quello a casa grida la vergogna attraverso i social. La società per tutta risposta si trincera dietro un silenzio stampa che riguarda tanto l'area tecnica quanto quella dirigenziale. Una situazione avvilente e surreale con la squadra relegata nei bassi fondi della Serie 2 viaggiando ad una media da retrocessione. Domenica si torna alla Vitrifigo Arena, arriva 100 e sulla carta sarebbe una partita alla portata a patto di vedere qualcosa di estremamente diverso da ciò che ha caratterizzato i primi due disgraziati mesi di campionato.